Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale. Vediamo quali sono le principali notizie di oggi. Protesta contro la RAI per la messa in onda della fiction su Duisburg. Viole Santelli dice offende tutta la Calabria. Sul software inventato a Catanzaro arrestati amministratore tecnico della ditta informatica. Riscutevano da anni la pensione dei loro familiari defunti scoperti dalla guardia di finanza di Catanzaro. Operazione Dolce Vita, Roma, sequestrate ville e barche ad una famiglia calabrese. Questo è altro tra poco. Santelli su fiction RAI su Duisburg ha danneggiato la Calabria. L'orrenda fiction trasmessa ieri da RAI1 sui fatti di Duisburg ha cagionato enormi danni di immagini alla Calabria, dipinte in maniera diretta come Regione dell'Andrangheta. Una vergogna raddoppiata dal fatto che a proporla sia stato il servizio pubblico. Lo afferma Iole Santelli, vicepresidente della commissione antimafia di Forza Italia. La commissione di vigilanza attraverso i nostri membri, dice Santelli, chiede a rallumi al direttore generale e al responsabile dell'area fiction. Non solo la narrazione della puntata è stata tutta incentrata sul rapporto tra criminalità organizzata e la Calabria, ma cosa ancora più grave è stato lanciato il messaggio subliminale di un corpo unico, cosa che offende due milioni di cittadini onesti che vivono di lavoro e sacrifici e che subiscono il peso di una mafia che riguarda in tutto poche migliaia di persone. Da Corrado Alvaro a Giuseppe Berto, da Natuzza a San Francesco, solo per citare alcuni esempi, dice Santelli, la storia della Calabria è densa di grandi personaggi della cultura, della religione, che hanno dato contributi straordinari al paese e su cui la RAI preferisce tacere. Gli esempi positivi danno fastidio a un potere che ha l'interesse di mostrare lo stereotipo di una regione che equivale all'Andrangheta e una cosa conclude su cui i vertici RAI dovranno assumersi le loro responsabilità. Software Spia inventato H. Danzaro, arrestati amministratore e tecnico della ditta informatica. Un amministratore e un tecnico di una ditta informatica sono stati arrestati dal ROS, dal Nucleo Speciale Tutela Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza e della Polizia Postale, nell'ambito dell'indagine sul software spia Exodus, coordinata dalla Procura di Napoli. Lo scorso aprile la Procura di Napoli aveva indagato quattro persone per il software spia che sarebbe stato inventato a Cadanzaro. Si tratterebbe di Diego Fasano, amministratore della ESURV, società proprietaria del software Exodus, che avrebbe infettato illegalmente i telefoni di ignari utenti e provocato falle in inchieste giudiziarie, e il tecnico Salvatore Ansani che sono stati posti ai domiciliari. Eseguite anche perquisizioni in cinque società che si sarebbero servite della piattaforma. Gli inquirenti hanno sequestrato materiale informatico e profili cloud. Agli indagati viene contestato l'intercettazione illegale e l'accesso abusivo al sistema informatico, con una procedura definita di cinturazione congelate i dati delle intercettazioni custoditi su un cloud in Oregon. Secondo una prima stima sarebbero 8-900 le inoculazioni del virus spia, di cui più di 250 appaiono senza autorizzazione della magistratura. Su 898 intercettazioni analizzate, 234 non autorizzate. Processo Mala Sanitas, chieste e pene per 50 anni in Calabria. I pubblici ministeri hanno invocato pene complessive per oltre 50 anni di carcere al termine della requisitoria nel processo scaturito dall'operazione Mala Sanitas, condotta dalla Guardia di Finanza nell'aprile del 2016 nei confronti di sanitari e operanti o già in servizio presso i reparti di ostetricia e ginecologia, di neonatologia e di anestesia degli ospedali riuniti di Reggio Calabria. Le accuse a vario titolo sono di associazione a delinquere, falso ideologico e immateriale, di soppressione, distruzione e occultamento di atti veri, nonché di interruzione della gravidanza senza consenso della donna. L'indagine era scaturita da intercettazioni seguite a carico della Cosca De Stefano nell'ambito di un altro procedimento della DDA. Nel corso delle intercettazioni attivati su nutenze intestate all'azienda ospedaliera Bianchi Malacrino Morelli e in uso al dottore Alessandro Tripodi, medico ginecologo presso il reparto ginecologia ostetricia, nonché nipote di Giorgio De Stefano, condannato nel marzo dello scorso anno a 20 anni di reclusione nel troncone abbreviato del processo GOTA, erano emersi numerosi presunti episodi di mala sanità per colpa medica e falsità in atto pubblico da parte del personale dei riuniti. Alessandro Tripodi, in particolare, accusato di aver indotto fraudolentemente con la complicità di altri sanitari o ostetriche del reparto la propria sorella a interrompere la gravidanza perché è convinto che il bambino non sarebbe nato sano. Reggio, due giovani in manette per la rapina al mano armata al CRAI. Due giovani, Leandro Stillitano, 21 anni, e Antonino Labbate, 24 anni, sono stati arrestati dagli agenti della Questura di Reggio Calabria con l'accusa di rapina aggravata in concorso, detenzione e porto illegale di arma da fuoco, nonché per porto di armi o oggetti atti ad offendere. La misura è stata emessa dal GIP al termine delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, diretta dal procuratore Giovanni Bombardieri. I fatti risalgono all'11 gennaio scorso e sono stati ricostruiti dagli investigatori della squadra mobile sotto le direttive del procuratore aggiunto Gerardo Dominigliani e del sostituto procuratore Nicola De Caria. Secondo l'accusa, alle 19.45 di quel giorno, Labbate e Stillitano, armati rispettivamente di pistole di un coltello a lama lunga di grosse dimensioni, erano entrati all'interno del supermercato Crai situato in via Reggio Campi a Reggio Calabria. Il market era affollato di clienti quando i due, minacciando i cassieri, avrebbero messo a segno una grave rapina asportando il denaro e lo stesso registratore di cassa. Il bottino è stato di oltre 2.000 euro. Grazie alle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza dell'esercizio commerciale, gli agenti hanno ricostruito la dinamica della rapina. Per la procura, Labbate avrebbe puntato più volte la pistola contro un dipendente, mentre Stillitano, sotto la minaccia del coltello, si sarebbe impossessato del bottino. Determinante per la ricostruzione dei fatti è stata l'attività della squadra mobile, che attraverso il minuzioso esame delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza del punto vendita ed estrapolate dalle telecamere presenti in tutte le strade adiacenti all'esercizio commerciale, ha potuto ricostruire la rapina ed individuare i presunti responsabili. Riscuotevano da anni la pensione dei loro familiari defunti e uno di loro ha anche percepito indebitamente il reddito di cittadinanza fino a sottrarre indebitamente oltre 184 mila euro. Affermare lo stilicidio alla Guardia di Finanza, nucleo di polizia economico-finanziaria di Catanzaro, nell'ambito dell'operazione denominata Assi Pigliatutto, che ha dato esecuzione al decreto di sequestro di denaro, beni e attività finanziarie nei confronti di due soggetti che riscuotevano indebitamente la pensione della madre e della suocera decedute da molti anni. Gli oltre 184 mila euro sono state oggetto del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente all'esito delle indagini condotte dal nucleo PEF, Gruppo Tutela Spesa Pubblica di Catanzaro, su delega della Procura della Repubblica di Catanzaro con il sostituto procuratore Pasquale Mandolfino, con il coordinamento del procuratore aggiunto Vincenzo Capomolla e del procuratore della Repubblica Nicola Gratteri. In particolare uno dei due soggetti riscuoteva indebitamente da oltre 13 anni la pensione della madre deceduta nel 2005, omettendo di comunicarle la morte, e da allora prelevava ogni mese dal libretto postale di cui era cointestatario di circa 700 euro accreditati a titolo di pensione della madre. In tal modo arrivava ad incassare indebitamente in questi anni oltre 84 mila euro. L'altro indagato, essendo stato a suo tempo delegato a riscuotere la pensione dell'anziana suocera, morta nel 1998, aveva continuato per vent'anni a certificarne falsamente l'esistenza in vita, arrivando così a riscuotere fraudolentemente oltre 100 mila euro di erogazioni pensionistiche. In quest'ultima vicenda c'è l'ulteriore particolarità che riguarda il reddito di cittadinanza. L'indagato, infatti, ha anche presentato domanda per la percezione del reddito, attestando falsamente che tutto il suo nucleo familiare non possedeva alcuna fonte di reddito, sicché l'importo mensile del beneficio, poco meno di 500 euro, era stato moltiplicato fino al massimo previsto dalla legge e ulteriormente integrato dalla quota fissa di rimborso per il canone di locazione dell'abitazione, arrivando ad un ammontare complessivo di oltre 1.300 euro mensili. Per questo motivo, a causa delle false dichiarazioni rese al fine di ottenere il reddito di cittadinanza, è stato indagato anche per il delitto previsto proprio dalle legge, con cui è stato istituito il beneficio economico a favore delle famiglie in stato di bisogno e dei disoccupati in cerca di impiego. Si tratta di una delle primissime applicazioni di questa norma, di recentissima introduzione, che punisce con la reclusione da 2 a 6 anni chi dichiara il falso al fine di ottenere indebitamente il beneficio del reddito di cittadinanza. Operazione Dolce Vita a Roma, sequestrate, ville e barche a famiglia calabrese. Conti corrente, ville, aziende e terreni, perfino una barca a vele e un noto locale notturno della Movida romana. Hanno un valore stimato di 10 milioni di euro i beni sequestrati dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma ad una famiglia di origini calabrese accusata di numerosi reati. Il provvedimento, disposto dal Tribunale di Roma, sezione specializzata, misura di prevenzione, è stato seguito tra le province di Roma, Reggio Calabria, Frusinone, Latina, Livorno e Milano. Beni sottoposti a vincolo sono risultati a vario titolo nella disponibilità del nucleo familiare da anni residente in Roma e provincia, composto da Francesco Mercuri, ottantenne, dalla moglie Carmela Fazzari, ottantenne, e dai due figli Giuseppe Mercuri di anni 53 attualmente in carcere e Angelo Mercuri di anni 51, tutti gravati a partire dagli anni 80 da numerosissimi precedenti penali e numerose sentenze definite di condanna per reati contro il patrimonio, l'economia e la fede pubblica commesse anche in forma associativa nella provincia di Roma. Gli accertamenti compiuti dai finanzieri avrebbero consentito di riscontrare oltre all'escalation di condotte criminose poste in essere dai preposti e quindi la loro eccezionale propensione a porre in essere i comportamenti antisociali mediante il compimento di numerosi reati. Un rapporto di particolare sproposizione tra i redditi pressoché inesistenti, dichiarati dagli stessi e dai propri nuclei familiari, e il patrimonio costituito da 24 beni immobili tra villa, appartamenti e terreni, 32 auto, un'imbarcazione a vela, conti correnti, quote societari e capitale e un intero compendio aziendale costituito da cinque società operanti nei settori immobiliari e del commercio di autoveicoli, l'oro effettivamente riconducibile che di conseguenza è stato sottoposto a sequestro in quanto ritenuto acquisito con proventi delle attività illecite. Dalle accurate indagini svolte dalle fiamme gialle dei castelli, oltre alla titolarità di società immobiliare e di vendita di automobili, è emersa la gestione di un noto locale della Movida romana in zona Tiburtina, particolarmente attivo nell'organizzazione di eventi e concerti, anche soggetto dell'odierno provvedimento. Numerosi sono altresì i riscontri sull'altissimo tenore di vita tenuto dai preposti frequentatori assidui di esclusivi club in località marittime, spesso raggiunti a bordo della barca a vela Ciuciu, definita sui social network un'imbarcazione foriera di grandi emozioni. Lamezia aggrediscono dipendenti e forze dell'ordine in aeroporto due gli arresti. Attimi di paura all'interno dell'area di sicurezza dell'aeroporto di Lamezia, secondo una prima ricostruzione dei fatti, due persone, probabilmente un uomo e una donna, sotto l'effetto dell'alcol, avrebbero aggredito alcuni dipendenti, forze dell'ordine e passeggeri intervenuti per tentare di placarli. Sul posto anche il personale del primo soccorso per prestare le prime cure alle persone rimaste ferite dalla collutazione. L'intervento della Polari e dei Carabinieri è servito per fermare i due che forse sarebbero adirati per aver trovato il gate chiuso. Gli stessi sono stati arrestati per violenza e resistenza pubblico ufficiale. A causa della lite, il volo diretto a Treviso avrebbe subito quasi due ore di ritardo. Assolto ex presidente società di gestione aeroporto di Crotone. Il Tribunale di Crotone ha assolto l'imprenditore crotonese Cesare Spanò perché il fatto non costituisce reato. Nel processo in cui doveva rispondere dell'omesso versamento al fisco di ritenute fiscali per un ammontare di 180 mila euro da parte delle società aeroporto Sant'Anna SPA della quale è stato presidente dal 2012 al 2013. Il giudice ha accolto la richiesta dell'avvocato Francesco Verri osservando che la difesa ha documentato come l'imputato sia stato individuato e incaricato a dirigere l'amministrazione aziendale nell'ambito di una cordata di imprenditori chiamati a soccorrere al grave stato di insolvenza in cui versava la società. Ha anche evidenziato che Spanò ha partecipato attivamente all'accordata con versamento di denaro liquido e si sia speso personalmente e gratuitamente per il sollecito delle altre compaggini private e pubbliche affinché si onorassero gli impegni di conferimento presi. Il giudice ha anche posto l'accento sul vano tentativo di Spanò di acquisire informazioni sull'andamento aziendale che unitamente alle altre criticità indusse per due volte l'imputato a presentare le dimissioni poi non accolte dalla CDA. Da qui la soluzione in virtù della non volontarietà dell'inedampimento erariale. Autobus si ribalta a Siena 35 anni di Castrovillere è stato arrestato per omicidio stradale. L'autista del Pullman che si è ribaltato sulla superstrada Autopaglio Siena-Firenze causando la morte della guida turistica russa e il ferimento di altri 37 turisti dei paesi dell'est europeo che erano a bordo è stato arrestato la scorsa notte con l'accusa di omicidio stradale e lesioni con l'aggramanti della distrazione. L'arresto per Leonardo Santoro 35 anni di Castrovillere è scattato dopo che dalle immagini svolte dalla polizia stradale è emerso che l'autista si sarebbe distratto mentre si trovava alla guida dell'autobus turistico a due piani andando a sbattere contro il guardrail finendo nella scarpata. Sull'asfalto non sono stati trovati segni di frenata l'autista ha trascorso la notte nelle camere di sicurezza della caserma della pulizia stradale a Siena. Al tribunale senese si è tenuta l'udienza davanti al giudice per la convalida dell'arresto. E adesso una breve pausa, ci vediamo tra poco. Bentornati in studio, andiamo alla Mezia dove ricatta ex amante minacciandolo di pubblicare foto della loro relazione se non le avesse dato del denaro ma è stata arrestata da militari della guardia di finanza di La Mezia Terme con l'accusa di tentata estorsione. A rivolgersi alle fiamme gialle è stato l'uomo esasperato dalle continue richieste. La donna, dopo che l'uomo sposato aveva troncato la loro relazione ha iniziato a minacciarlo. Dopo la denuncia ricevuta i finanzieri si sono presentati all'appuntamento nel corso del quale l'uomo ha consegnato la somma di denaro richiesto ed hanno bloccato la donna. L'arresto è stato successivamente convalidato dall'autorità giudiziaria che poi ha scarcerato la donna fissando il processo per direttissima al 4 luglio prossimo. Fatture rimborsate due volte sequestro da 4 milioni nel Regino Beni mobili e immobili per un valore complessivo di oltre 4 milioni di euro sono stati sequestrati dai militari del comando provinciale della guardia di finanze di Reggio Calabria sotto il coordinamento della locale procura della Repubblica al rappresentante legale di una clinica privata di Siderno denunciato per farsi ideologico e truffa aggravata ai danni dello Stato. Il provvedimento emesso dal GIP richiesto dal procuratore aggiunto Gerardo Dominiani e dal sostituto procuratore della Repubblica Marica Mastrapasqua è scaturito da indagini condotti dal nucleo di polizia economico-finanziare della Guardia di Finanze di Reggio Calabria dalle quali sarebbe emersa una duplicazione di pagamenti per oltre 4 milioni di euro corrisposti dall'azienda sanitaria provinciale Reggina a favore di uno studio radiologico privato operante nel settore delle erogazioni di prestazioni diagnostiche ai pazienti in convenzione con il servizio sanitario nazionale. Minaccia e ferisce la compagna con le forbici a Reggio Calabria è stato arrestato un 49enne. Agenti delle volanti della Questura di Reggio Calabria hanno arrestato in flagranza di reato GM di 49 anni responsabile di maltrattamenti in famiglia violenza privata e lesioni personali nei confronti della sua convivente di 55 anni. I poliziotti sono intervenuti dopo la telefonata di una donna di nazionalità romena che chiedeva aiuto poiché aggredita dal compagno che l'aveva ferita al polso con un paio di forbici e le impediva di lasciare l'appartamento. Giunti sul posto gli agenti hanno constatato le minacce di morte rivolte alla donna per farla smettere di chiedere aiuto. Dopo una mediazione sono riusciti a convincere l'uomo ad aprire la porta di casa consentendo alla vittima di uscire e di farsi medicare dal personale del 118. L'aggressore è stato quindi arrestato. in casa sono state trovate le forbici usate per ferire la donna giudicata guaribile in cinque giorni. L'autorità giudiziaria ha disposto per l'uomo gli arresti in carcere. Ingiuria in minaccia i carabinieri durante un controllo 72enne finisce in manette. A Gioia Tauro i carabinieri della locale stazione hanno arrestato GM 72enne già noto alle forze di polizia accusato dei reati di resistenza oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità. In particolare l'uomo nel corso di un normale controllo alla circolazione stradale effettuato dai militari dell'arma in zona marina di Gioia Tauro avrebbe iniziato ad inveire con vehemenza contro gli operanti proferendo ai loro confronti frasi ingiuriose minacciandoli verbalmente anche allo scopo di sottrarsi alle operazioni di identificazione. Per questo motivo l'uomo è stato condotto presso gli uffici della Compagnia Carabinieri di Gioia Tauro dove è stato dichiarato in stato di arresto e condotto all'esito delle formalità di rito presso la sua abitazione il regime di arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria Palmese che ha convalidato l'arresto disponendo a suo carico l'applicazione della misura cautelare personale dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. A Chiara Valle la giornata dedicata ai valori dello sport. Nella programmazione estiva dell'amministrazione comunale ci sarà spazio per le attività sportive. Qualche anticipazione l'ha fornita il consigliere delegato Sergio Garrieri a margine dell'incontro svoltosi con le diverse associazioni sportive presenti sul territorio per tracciare un percorso comune. In particolare coinvolgendo le associazioni sportive e i titolari di tutte le palestre che rappresentano un punto di forza in termini di formazione dei ragazzi. Si punta a rilanciare il settore sportivo e del tempo libero. All'incontro con il sindaco Domenico Donato erano presenti pure i rappresentanti del CONI della Federazione di Catanzaro. L'obiettivo per Sergio Garrieri è quello di promuovere una giornata denominata dello sport da svolgere il 16 giugno prossimo e calendarizzare ogni anno l'evento. Attraverso le varie discipline sportive poi saranno coinvolti i quartieri della città eppure quelli delle zone rurali del territorio. Si parte con l'accensione della fiaccola poi il raduno nelle strutture sportive comunali di via foresta e quindi il via alle attività che si protrarranno per l'intera giornata. Per Garrieri è un primo passaggio verso una più proficua collaborazione con gli organismi provinciali del CONI che hanno accolto con entusiasmo e partecipazione la proposta dell'amministrazione della città. Collaborazione che per certi aspetti si potrebbe stendere per altri periodi dell'anno. Attività sportive come strumento di crescita sociale a beneficio soprattutto delle giovani generazioni. Ed ora Sera San Bruno con questo servizio. Alla presenza delle autorità civili religiose e militari è stato tagliato il nastro tricolore dell'impianto polisportivo coperto posto nel retro della scuola media Ignazio Larussa. Dopo la benedizione di Don Leonardo Calabretta il sindaco Luigi Tassone si è detto soddisfatto dell'inaugurazione di una struttura all'avanguardia che va ad inserirsi nel più ampio piano volto a recuperare il gap creatosi negli anni. Dopo aver rilevato che i giovani possono forgiarsi socialmente in questi spazi che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e che parte dell'attrezzatura della palestra è già stata acquistata il primo cittadino ha spiegato che il progetto è partito negli anni scorsi ma anche se il comune pagava le rate giaceva fermo in un cassetto. Il consigliere delegato ai lavori pubblici Francesco Zaffino ha ringraziato i professionisti e la ditta che hanno realizzato l'opera ricordando che a breve partiranno i lavori di ripristino del campo di calcetto di via Matteotti. Serra San Bruno ha rilevato l'assessore allo sport Francesco De Caria ha da sempre la vocazione della diffusione della pratica sportiva. Ben 16 organizzazioni sportive operano sul nostro territorio e vi è la necessità di strutture idonee. Proprio per questo abbiamo elaborato una mappatura delle strutture da riqualificare. Sull'importanza di praticare lo sport nei luoghi adatti si sono soffermati il delegato Coni Vibo Valencia Bruno Battaglia ed il referente del credito sportivo per la Basilicata e la Calabria Vincenzo Smeraglia. Di giornata di festa ha parlato il dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Azzeria Tedeschi Giovanni Valenzisi che ha sostenuto che è stato eliminato l'ultimo neo relativo all'assenza di impiantistica sportiva. L'educazione ha precisato non è appannaggio solo dell'istituzione scolastica ma di tutte le agenzie educative del territorio. Gli studenti hanno poi partecipato ai festeggiamenti di rito. Ha soverato il Commerce 2019 focus scientifico sulla medicina dello sport. Un congresso medico scientifico di portata nazionale con autorevoli relatori provenienti da tutta Italia. È il Commerce 2019 che si svolgerà soverato il prossimo 25 maggio a partire dalle ore 8.30 presso il Teatro Comunale. Preseduto dal Dottor Domenico Mammone il congresso accreditato ECM affronterà il tema delle nuove frontiere in medicina dello sport. Update in cardiologia alimentazione traumatologia e riabilitazione. Da quando numerosi studiosi hanno dimostrato come la una attività rappresenta un fattore di rischio alla stregua di molte patologie che affliggono la società moderna anticipa il Dottor Mammone sempre più persone si avvicinano al mondo dello sport. La medicina dello sport assume così il ruolo fondamentale di medicina preventiva tutela non solo della pratica agonistica ed amatoriale ma anche nei riguardi di tutta la popolazione. Scopo del nostro incontro sarà quello di analizzare vari aspetti che possono pregiudicare la salute di chi svolge attività sportiva sia di tipo agonistico che non agonistico dalla prevenzione dei gravi danni alla salute che possono insorgere in occasioni delle attività sportive intense e alle diagnosi precoce delle patologie specie cardiovascolari che possono precludere un'attività di tipo agonistico. Il convegno indirizzato a diverse figure professionali vuole rappresentare un'occasione di reale approfondimento e di proficuo confronto sui vari aspetti della medicina sportiva. dalle strategie di tipo preventivo alla cardiologia dello sport. Ampio spazio sarà dedicato alla morte cardiaca improvvisa da sport agli aspetti traumatologici alla nuova frontiera rappresentata dallo sport terapia all'alimentazione. La parte relativa alla componente medico legale andrà a completare il panorama didattico del congresso agenzia provider service management. E adesso ci spostiamo a Chiaravalle Centrale. A Chiaravalle Centrale il progetto ambiente per le scuole questa mattina i giovani studenti sono radunati nel giardino comunale di località foresta per la piantumazione di un albero. A tal proposito sentiamo le interviste dell'insegnante Maria Chiaratino e il sindaco di Chiaravalle Centrale Domenico Donato. Si è svolta la manifestazione finale del progetto ambientale proposto dai Carabinieri della Biodiversità. È un progetto che ci ha visti lavorare tutto un anno e abbiamo prodotto poi dei lavori che sono stati consegnati ai Carabinieri della Biodiversità per una loro pubblicizzazione. Abbiamo fatto un libro, dei cartelloni e abbiamo soprattutto adottato un albero. Ogni classe ha dato il nome è un albero. Noi abbiamo adottato l'albero in fondo lo abbiamo chiamato Pippo e questo albero è un nostro amico. Ora abbiamo invece piantato un albero che è stato chiamato l'albero della vita perché è l'albero amico delle scuole di Chiaravalle, primaria di Via Martelli, primaria di Pirivoglia, scuola infanzia di Pirivoglia. Con questa giornata non si conclude il progetto è solo una tappa. Il progetto continuerà il prossimo anno e vuole essere soprattutto una formazione ambientale che molti cittadini e adulti non hanno e quindi noi partiamo dai piccoli proprio per inculcare loro il rispetto della natura e dell'ambiente che poi è il rispetto di noi stessi. E' importante oggi essere qui con i bimbi della scuola materna e della scuola primaria per questo progetto ambientale. perché è importante? Perché proprio dalle scuole bisogna partire per far capire quanto possa essere importante anche solo come oggi la pianta di un albero. Perché? Perché l'albero per le sue qualità per quello che ci dà riesce a darci a garantirci quella qualità di vita migliore sana per la produzione di ossigeno che riesce a produrre. trovarci qui oggi in questo progetto e parlare di questi valori io ritengo che ha avuto un significato veramente forte e ho dato i miei complimenti sia al corpo militare quindi al maresciallo Falbo e sia alle insegnanti che hanno voluto questo progetto per Chiara Valle. Oggi noi ci troviamo proprio nel parco della foresta oggetto ultimamente di tante osservazioni più che altro che hanno prodotto dei dubbi su quello che in questo parco stava succedendo oggi è la testimonianza viva di quanto si sta facendo per il nostro ambiente. Tante piante messe a dimora in questi giorni e si conclude proprio oggi con questo progetto con i nostri bimbi di Chiara Valle ad essere partecipi a questa nuova iniziativa che si è voluta portare avanti. E questa era l'ultima notizia grazie per l'attenzione buona serata. grazie a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti.